Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi partono i tre giorni dedicati al Hajj e i tre giorni dedicati al Ayd al-Adha. Proprio per questo oggi inizieremo a parlare del Ihram, uno stato particolare che è necessario mantenere e ottenere se si vuole fare appunto il pellegrinaggio. Penso che sia il passo migliore appunto per introdurci in questo momento tanto particolare per l'Islam e che, già ve lo dico, non utilizzerà le mie parole, almeno domani il pellegrinaggio utilizzerà le parole di Ibn Battuta, proprio perché io non essendoci mai stato mi sono accorto che io pur essendo musulmano avevo una percezione molto diversa rispetto a quello che fosse il Hajj. E proprio per non sbagliarmi ma anche per portarvi un contenuto particolare ho scelto di riportarvi appunto il Hajj, il pellegrinaggio di Ibn Battuta. Ma concentriamoci prima su quello che è l'Ihram andando a vedere come lo visse Ibn Battuta. Ripartiti da Medina, in direzione della Mecca, ci accampammo nei pressi della moschea di Dhu Hulaifa, dove l'inviato compi i riti dell'Ihram, che si trova a 5.000 da Medina, al limite del suo sacro territorio, vicino all'Uwe di Hakik. Qui mi tolsi i aveti cuciti, mi lavai, indossai l'Ihram e compi una preghiera di due reche, assumendo così lo stato di Ihram per compiere il pellegrinaggio semplice. Poi, come gli altri, continuai a gridare l'Abbaiq, eccomi, per colline e pianure, salendo e scendendo fino al valico di Eli, dove sostammo quella notte. Quindi, ripartimmo e ci fermiamo ad Al-Rawha, dove si trova il pozzo detto di Veth al-Elem, vicino al quale dicono che Eli abbia combattuto i Jin. Come abbiamo visto, l'Ihram è uno stato molto particolare che anche Ibn Battuta ha dovuto prendere, ma come abbiamo visto, Ibn Battuta lo prende in un punto molto specifico, ovvero Du Huleifa, una moschea particolare che è utilizzata appunto da coloro che vengono da Medina. E non è casuale, nel senso che questa era un'altra cosa che non sapevo scoperto proprio con questa ricerca. Questo Ihram è uno stato che bisogna per forza ottenere perché c'è una certa area di sacralità, diciamo, che si chiama Al-Hil, e che effettivamente ha un'area precisa, nel senso che tu poi entri fisicamente nell'area di Al-Hil. È come se fosse una regione però spirituale, ok? E se tu entri in questa regione e quindi vuoi entrare a Mecca e vuoi fare il pellegnaggio, perché se vuoi entrare per, non so, andare al bar, penso che non sia fondamentale. È un po' strano che uno va fino a Mecca per andare al bar, però ci mancherebbe altro, sicuramente ci sono abitanti lì che vanno per quello. Fatto sta, questo stato si ottiene in alcune moschea precise. Io, dico la verità, non mi ricordo esattamente i nomi, perché sono tutti nomi che non avevo mai sentito in tutta la mia vita, non essendomi mai interessato del Haji prima, ma mentre io sto parlando e perdendo tempo vi saranno apparsi qua intorno sicuramente. Comunque essenzialmente sono divisi in base al luogo da dove proviene il pellegrino. E hanno questa particolarità, fra l'altro, che nel caso tu prendessi per dire un aereo e andassi da Milano fino a Mecca, e quindi atterrassi a Mecca, quindi già dentro quest'area del Al-Hil, dovresti praticare questo rito appunto del Ihram prima, in maniera tale che una volta sceso a terra sei già con questo stato. Chiamiamolo così. Fatto sta che cosa comparte a questo stato particolare, cosa si deve fare per entrarci e via discorrendo, essenzialmente quello che abbiamo visto fare ai bene battuta, ovvero di fatto bisogna esprimere l'intenzione profonda di entrare in tale stato e probabilmente anche di fare il pellegrinaggio, visto che le due cose spesso sono correlate. Poi bisogna lavarsi. E diciamo che io ho cercato anche su più fonti, proprio per essere sicuro, ho una paura di dire delle cavolate quando tocco la religione, quindi essenzialmente bisogna igienizzarsi, nel senso che bisognerebbe lavarsi, ad esempio sfoltire la barba, bisognerebbe magari curarsi le unghie, naturalmente se non è stato fatto di recente, non profumarsi, che è una cosa che assolutamente invece è proibita in questo stato, però assolutamente pulirsi e pulirsi nella miglior maniera. È una sorta di purificazione, qualcosa di molto simile a quello che ogni musulmano deve comunque già fare per il Jumu'a. Chiaramente devi mantenere questo stato, ha delle condizioni particolari, ci sono delle cose che adesso vediamo e che non puoi fare, però il succo è sempre quello, cioè quello di purificarsi, perché si sta andando a fare qualcosa di particolare, qualcosa di profondo e diverso. Quindi vediamo un attimo nel dettaglio le cose che appunto sono proibite. È proibito usare abiti attillati, tagliarsi unghie e capelli mentre si è in quello stato, avere rapporti sessuali naturalmente, o programmarli di avere in futuro, quindi per dire non puoi andare dalla pellegrina molto bella e carina e diciamo provarci, questo è assolutamente vietato e fuori luogo oltretutto, però è proprio vietato, se no esci da questo status. Non puoi andare a caccia, non puoi dire male parole, non puoi profumarti, quindi non puoi utilizzare qualcosa che essenzialmente attiri l'attenzione e naturalmente non puoi fumare in questo periodo. E in particolare devi indossare questo abito, se sei uomo, se sei donna, è un altro discorso, ma adesso ci arriviamo, che si chiama Ihram, di fatto, ed è essenzialmente un abito fatto da due pezzi di stoffa che non hanno cuciture fra di loro e che essenzialmente sono uno la parte di sopra e uno la parte di sotto. Questo chiaramente per rendere il pellegrino quanto più umile possibile, proprio perché non ha neanche un vestito cucito, nel vero senso della parola. È proibito per l'uomo coprirsi il capo con un cappello, quindi con qualcosa che tocchi la testa, ma non è assolutamente proibito per dire portarsi un ombrello contro il sole se uno volesse coprirsi il capo senza far toccare. Le donne invece hanno il divieto, divieto assoluto di niqab e di burka perché il volto deve essere assolutamente scoperto, così come le mani. Ovviamente invece il capo, i capelli, eccetera, in quel momento lì devono essere coperti. A parte questo, la donna condivide tutte le altre cose dell'uomo, appunto. A quanto ho capito, sui vestigio è più libertà, nel senso che non si è obbligati a fare questo fatto delle due pezze perché sarebbe ovviamente molto scomodo, eccetera. Però comunque bisogna puntare a degli abiti per lo più bianchi, a quanto ho capito, forse solo bianchi, e che appunto non siano assolutamente né attillati né comunque particolarmente elaborati. La cosa che viene premiata in questo pellegrinaggio appunto è l'umiltà in generale, la modestia. Queste sono essenzialmente le fasi per entrare in questo stato di Ikram. Io vi invito a comunque approfondire di più perché io ho una paura bestiale ogni volta che parlo di religione, però ho fatto i dovuti calcoli, dovrebbe essere più o meno tutto corretto. Io vi saluto e ci vediamo domani quando vi leggerò di fatto tutto quello che riguarda il Hajj da parte di Ibn Battuta. Io vi saluto a domani e dopo domani vi ricordo che c'è la nostra feste al Aida Lada, non solo di Mediorente e Intorni, ma di tutto il mondo muslim. Alla prossima!